Continua a diminuire il numero delle infezioni da Covid-19 in Sicilia. Nella settimana tra il 13 e il 19 marzo sono stati registrati attraverso i test antigenici o molecolari 893 casi di positività, 194 in meno rispetto ai sette giorni precedenti. L'incidenza media è stata di 19 casi ogni 100.000 abitanti. I dati sono riportati come sempre nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, il Dipartimento per le Attività Sanitarie, Osservatorio Epidemiologico e l'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana. In provincia di Palermo è stato registrato in assoluto il maggior numero di nuove infezioni, 272, con un'incidenza di 22,67 casi ogni 100.000 abitanti, mentre in provincia di Agrigento si registra l'incidenza più alta, 29 ogni 100.000 abitanti, con 119 nuovi positivi in totale. Catania invece è stata la provincia che ha fatto segnare il calo più importante di casi, meno 36,31%, con 107 nuovi positivi e un'incidenza di 10 infezioni ogni 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente colpite sono state quelle oltre 60 anni e, in particolare, 80-89 anni, 70-79 anni, 60-69 anni e oltre 90 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono stabili, più di metà dei pazienti ricoverati risultano non vaccinati. Nella fascia 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,09% del target regionale. Sono oltre 61.000, pari al 19,85%, i bambini con ciclo primario completato. Tra gli aver 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 91,01%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,63%. Sono ancora 1.120.651 i cittadini che non hanno fatto la terza dose. I vaccinati con booster sono 2.774.094, pari al 71,23% degli aventi diritto. Dal 13 luglio del 2022 in Sicilia è stata somministrata la quarta dose di vaccino a 243.407 persone, di cui 213.965 soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.153.